Di vieto di accedere a manifestazioni sportive per 22 tifosi, 13 nisseni e 9 ennesi. Provedimenti annunciati dal questore di Caltanissette, Emanuele Ricifari, riguardano la partita Nissa-Enna del 13 novembre scorso. Caltanissette ha due incidenti stradali, il primo fra Vialeone e Tredicesimo e Guastaferro, il secondo in Viale Tessa Secca. Caltanissette ha furti notturni in Viale Tessa Secca, presi di mira a due negozi. Antonella Geraldi, disposta l'autopsia prevista nella giornata di giovedì. Antenna Rai, la proposta di un cittadino per attrarre turisti a Caltanissette. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando della conferenza stampa in questura. Di vieto di accedere a manifestazioni sportive per 22 tifosi, i provvedimenti annunciati dal questore di Caltanissette, Emanuele Ricifari, riguardano la partita Nissa-Enna del 13 novembre scorso. Sentiamo. 22 DASPO emessi dal questore di Caltanissette sarebbero stati notificati infatti i provvedimenti di divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive da parte della divisione polizia anticrimine della questura nissena nei confronti di 13 nisseni, di cui un minorenne e nove ennesi. Per 14 delle persone colpite da DASPO il divieto varrà per i prossimi due anni, mentre per 8 di loro la durata sale a 5 anni. E per 5 soggetti colpiti da DASPO, si legge nel comunicato, è stata disposta e convalidata dall'autorità giudiziaria anche la prescrizione di presentarsi in questura nei giorni di svolgimento delle gare. Si fa riferimento a quanto accaduto nei pressi del Palmintelli prima della partita del 13 novembre 2022. Noi abbiamo riscontrato in città uno scontro simile a quello a cui abbiamo assistito l'ultima domenica scorsa a livello nazionale sull'autostrada ai pressi di Arezzo. La differenza è poca, perlomeno nella gravità dei fatti, anzi direi che questi che si sono avvenuti in piena città un pomeriggio in cui le persone erano anche a passeggio in quella parte della città hanno posto ancora più in pericolo le persone estranee alla vicenda. Una cosa del genere fa, indubbiamente, mette in cattiva luce una città che invece dal punto di vista dell'accoglienza è una città che ha una sua storia tradizionale di accoglienza. Noi possiamo prevenire tutto, ma quando la gente, come in questi casi, è determinata assolutamente a scontrarsi, noi possiamo impedire che avvenga in un angolo, ma avverrà in un angolo successivo. Quello che possiamo certamente fare è ridurre al minimo questi numeri, queste partenze e per questo esiste tutto un lavoro che viene fatto a monte e quando a monte il lavoro non è sufficiente, come in questi casi, poi c'è la possibilità di adottare queste misure che terranno lontane queste persone dagli stadi e spero le indurranno a riflettere sui propri comportamenti. Siccome erano tutti ovviamente coperti con sciarpe, cuffie e quant'altro, caschi, ovviamente le operazioni di identificazione non sono mai semplici ed immediati. Intanto abbiamo immesso questi 22 perché su questi c'erano delle certezze e poi soprattutto perché si approssimano altri incontri che potrebbero essere definiti a rischio. Attualmente le persone sottoposte a Daspo nella provincia nissena sono 47. La legge si applica o non si applica? Noi la applichiamo. Caltanissetta, due incidenti stradali, il primo fra via Leone XIII e via Guastaferro, il secondo in via Leconte Testa Secca. Ancora paura fra le strade di Caltanissetta. Gli ultimi due episodi si sono verificati questa mattina. In entrambi i casi due ragazze sono state investite da due auto. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 8, tra via Leone XIII e via Guastaferro. La vittima è stata una ragazza di 15 anni che è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La 15enne, vigile e cosciente, ha riportato qualche contusione da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Nello stesso momento, un'altra ragazza di 16 anni è stata investita da un'auto in via Conte Testa Secca. La 16enne ha subito un trauma alla gamba, così anche in questo caso i sanitari del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Nisseno. In entrambi i casi sono intervenuti tempestivamente i carabinieri di Caltanissetta, che hanno iniziato i rilevi di rito mentre la polizia si è occupata della viabilità. Due episodi, quindi in pochi minuti, che per fortuna non hanno avuto conseguenze particolarmente gravi, ma che evidenziano l'importanza di rispettare i limiti di velocità, principalmente nelle strade urbane, soprattutto in un momento della giornata in cui le vie cittadine sono più frequentate dai pedoni che si recano a scuola o presso il luogo di lavoro. E ancora cronaca, furti notturni in via Le Testa Secca presi di mira a due negozi. C'è allarme fra i commercianti del centro storico di Caltanissetta dopo il furto in due negozi, verificatosi nella notte fra sabato e domenica. Confconsumatori sottolinea come non sia il primo caso, ricordando l'episodio recente, verificatosi alla pasticceria Dolci Tentazioni, e chiede più vigilanza per evitare ulteriori saccheggi. Nell'ultimo fine settimana sono stati presi di mira un esercizio commerciale per abbigliamento e un negozio di pelletteria in Viale Testa Secca. Non solo però attività commerciali private, alcuni soggetti si sarebbero intrufolati nell'ufficio tecnico dell'ex provincia regionale. In questo caso non è chiaro quando i ladri sarebbero riusciti a entrare negli uffici. Novità dovrebbero arrivare dalle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza che il Comune ha fatto mettere davanti l'ingresso dei giardini pubblici e con altre telecamere posizionate in direzione di Viale Testa Secca. Intanto fra i commercianti cresce la paura. Per questa ragione Confcommercio ha chiesto maggiore vigilanza alle autorità. Antonella Geraldi disposta all'autopsia prevista nella giornata di giovedì. I dettagli nel servizio. Sarà giovedì l'autopsia di Antonella Geraldi, deceduta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dopo che era stato predisposto un intervento chirurgico. La morte della donna di 53 anni, molto nota a Caltanissetta per la sua attività commerciale, ha colpito tutta la comunità del Comune Nisseno. La Geraldi era titolare di un negozio di piante e fiori in Via Calabria. Era in prima linea nella preparazione dei matrimoni, ma anche nella realizzazione degli addobbi floreali di diverse manifestazioni della Settimana Santa Nissena. Dopo la morte della donna, la famiglia si è rivolta ai carabinieri, chiedendo che si facesse luce sulle cause del decesso e su tutte le fasi successive all'arrivo al pronto soccorso e al ricovero nel reparto ospedaliero. Giovedì intanto sarà effettuata l'autopsia per capire cosa abbia causato la morte della donna lo scorso 6 gennaio. La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna a rinforzo dell'organico nove agenti della Polizia di Stato, provenienti da altre sedi che vantano variegate esperienze operative. Il personale è stato accolto dal Questore di Enna, Corrado Basile, che ha dato loro il benvenuto nella nuova sede di servizio e ha voluto sottolineare l'importanza delle attività che gli appartenenti alla Polizia di Stato si apprestano a fornire alle comunità della provincia ennese, confidando nell'entusiasmo che accompagna una nuova esperienza professionale. Imprese Schifani e Tamaio presentano Ripresa Sicilia. Risorse pari a 36 milioni di euro destinate alle aziende siciliane per la realizzazione di investimenti che favoriscano l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione dei siti produttivi. Il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'Assessore alle attività produttive, Edi Tamaio, hanno presentato questa mattina a Palermo, a Palazzo d'Orleans, la misura Ripresa Sicilia, una delle quattro linee di intervento all'interno del più ampio programma Competitività Sicilia. Erano presenti anche il dirigente generale dell'Assessorato, Carmelo Frittitta, e il direttore generale dell'IRFIS, Calogero Giulio Guagliano. Questo avviso pubblico, ha evidenziato il Governatore Schifani, punta ad adeguare il nostro sistema produttivo agli standard europei e a renderlo sempre più efficiente e competitivo. È uno dei tanti interventi che stiamo mettendo in campo per il tessuto imprenditoriale dell'isola. Soddisfazione ribadita anche dall'Assessore regionale alle attività produttive, Edi Tamaio. Abbiamo avviato questo percorso, un pacchetto chiamato Competitività Sicilia, diverse misure per un totale di 105 milioni di euro inizialmente, che possono andare a mettere liquidità intanto nel sistema e aiutare l'azienda nel campo della ricerca, nel campo dell'innovazione, nel campo dello sviluppo tecnologico. Abbiamo cercato di attivare queste misure attraverso anche l'IRTIS per, ripeto, dare una mano alle aziende. La misura si chiama Ripresa Sicilia, quindi è un modo per cercare di far riprendere le aziende dopo il periodo del Covid. Ripresa Sicilia ha una dotazione finanziaria complessiva di 36 milioni di euro, 16 milioni provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 20 milioni dal POC 2014-2020. I beneficiari dei finanziamenti sono le piccole e medie imprese dell'isola in forma singola o associata. Sono previste agevolazioni tra finanziamento a tasso zero della durata massima di 12 anni e contributi a fondo perduto sino al 75% dell'investimento per programmi di spesa tra i 400 mila e i 5 milioni di euro. Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata attiva dal 1 marzo incentivisicilia.irfis.it Queste misure di cui ho parlato poc'anzi sono delle misure importanti per le aziende. Il bonus energia è un sostegno ulteriore per le aziende. Stiamo cercando di mettere liquidità nel sistema utilizzando i POC, utilizzando gli FSC, tutte queste misure, questi fondi che vogliamo spendere per dare una mano alle aziende e non non spenderli per farli ritornare in Europa. Questo, ha spiegato il direttore dell'Istituto Guagliano, è la prima iniziativa di ripresa degli investimenti, una vera e propria scommessa in un momento come questo. Abbiamo stabilito dei tempi definiti nell'esame delle richieste al massimo 90 giorni perché vogliamo dare garanzia alle aziende. Torniamo a parlare della Villa Medeo, sopralluogo effettuato dalla seconda commissione consigliare permanente. Dopo l'intervento del consigliere comunale Oscar Aiello sulla Villa Medeo, la seconda commissione consigliare permanente ha effettuato proprio ieri mattina un sopralluogo all'interno dell'area comunale per verificare l'andamento dei lavori in corso già da qualche mese. Siamo andati appunto a fare sopralluogo, ad effettuare un sopralluogo alla presenza dell'ingegnere Garito, del dottore Sardo, dell'assessore Andaloro, dell'assessore Franciamone. Abbiamo visto quali sono i lavori effettivamente realizzati ad oggi e quali sono quelli ancora da realizzare. Abbiamo trovato l'impresa, nonostante si pensava che fossero sospesi, hanno ripreso. Hanno ripreso e stavano appunto trattando la facciata di un corpo di fabbrica all'ingresso nord. Hanno richiesto delucidazioni dunque sullo stato degli interventi. Quelli già eseguiti è ancora da eseguire, dalla zona dedicata ai giochi per i più piccoli, ad esempio alla Fontana e il Viale Principale. I lavori eseguiti, abbiamo visto, ci riguardano i due corpi di fabbrica nella zona sud. Uno che è praticamente destinato ai bagni pubblici, ai servizi igienici pubblici, e l'altro ad un vallamagazzino con annessi bagni. Effettivamente lì abbiamo visto che dal punto di vista strutturale, quindi c'è la copertura, gli indoraci esterni, sono tutti realizzati e definiti. All'interno manca qualcosa, però di fatto quello che purtroppo abbiamo rilevato che ancora il dialone principale, che non è roba da poco, non è nemmeno stato scarificato. Quindi è un lavoro importante, interessante, nonché la sostituzione di alcuni alberi per quanto riguarda il verde e il ripristino dell'illuminazione, con sostituzione dei corpi illuminanti praticamente in tutto il percorso. Per concludere, mi hanno garantito che verrà passata la tubazione per l'impianto futuro di videosorveglianza. Questo lo ritengo tra l'altro un successo perché era stato il mio eventamento presentato a settembre che appunto chiedeva la collocazione di questi invianti, cosa che invece verrà fatta direttamente sulla Villa Cortola. La situazione è che dobbiamo tenerla sotto controllo e ahimè temo che i tempi siano molto stretti. L'impresa deve veramente lavorare perché il periodo tra l'altro di piogge potrebbe anche provocare dei ritardi naturali per imprevisti dettati dal tempo. Antenna Rai, la proposta di un cittadino per attrarre turisti a Caltanissetta. Come attrarre i turisti nella nostra Caltanissetta? A porsi la domanda è Ottavio Rizza che sin da bambino ne sente parlare e sin da quando suo nonno lo portava con lui ad assistere ai consigli comunali, nei quali spesso assisteva a lunghi botte risposte tra i consiglieri Mario Arnone e Ottavio Rizza. Da circa 50 anni si sente parlare di sfruttare la centralità geografica in Sicilia di Caltanissetta per finalità turistiche. Ottavio Rizza ha sempre sognato che Caltanissetta non dovesse limitarsi a sfruttare la propria centralità ma che dovesse brillare di luce propria. A tal proposito lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni e farci spiegare la sua idea di rilancio della città. Si tratta di un'idea che mira a sollecitare tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale nella nostra città ma anche coloro che in questo periodo hanno tensionato l'utilizzo dell'antenna mi riferisco al comitato, associazione per far sì che questo bene di cui la città è in possesso possa essere utilizzato nel miglior modo possibile a livello turistico. L'idea parte da un ragionamento. Io so perfettamente che questa antenna per essere mantenuta richiede dei costi notevolissimi e so bene che per poter sostenere questi costi bisogna avere le idee chiare e avere la certezza che questi costi poi possano determinare o uno sviluppo della città o dei ricavi che superano i costi. Quindi l'utilizzo dell'antenna secondo me dovrebbe essere un utilizzo davvero spettacolare nel senso che la nostra città dovrebbe dar vita a uno spettacolo unico in Italia ma aggiungerei unico anche in Europa e nel mondo cioè sfruttare questa antenna per dar vita a dei giochi di luci giochi di acqua che siano uniche nel loro genere. Secondo me solo così questa antenna potrà essere utilizzata nel migliore dei modi cioè io mi rendo conto che le idee sono difficili da realizzare io non sono nato ieri lavoro nella pubblica amministrazione da quasi 30 anni e so benissimo che le idee sono una cosa la realizzazione delle idee è ben altra so bene che per riuscire a realizzare questa idea bisognerà sedersi nei tavoli giusti il comune, la regione, la soprintendenza per poterla realizzare il miglior modo possibile questa non è la sede per spiegare nei dettagli quella che è l'idea ma in sintesi consisterebbe proprio in questo in uno spettacolo di luci di acqua e magari con altre idee originali che farebbero sì che Caltanissetta diventi diciamo la sede di uno spettacolo che dovrebbe attrarre il turismo io mi rendo conto che ci saranno ostacoli particolarissimi ma ostacoli che secondo me si possono superare io faccio l'esempio dell'arena di Verona l'arena di Verona è stata costruita nel primo secolo dopo Cristo e l'antenna di Verona è stata oggetto di manutenzione con costi notevolissimi e l'antenna di Verona viene utilizzata non solo per la sua bellezza di anfiteatro come viene utilizzata per manifestazioni canore per eventi sportivi Giro d'Italia che si è concluso tanti anni a Verona ricordo anche una partita nell'88 tra le superpotenze della guerra fredda Russia e Stati Uniti che fece una partita di pallavolo e di tutto e di più quindi noi dobbiamo volare alto secondo me dobbiamo volare alto e cercare di credere in un progetto che faccia sì che questa antenna possa veramente essere diciamo un'attrazione per il turismo nella nostra città Fly to Palermo Winter Alvia ai passeggeri dei voli in arrivo da oggi fino al 21 marzo all'aeroporto Falcone e Borsellino verrà regalato un pernottamento ogni tre notti parla l'assessore al turismo del comune palermitano Sabrina Figuccia Il 2022 si è concluso turisticamente con un bilancio positivo per la Sicilia meta tra le preferite da turisti italiani e stranieri in quest'anno che segnava il ritorno a una quasi normalità dopo i due anni di pandemia mare, natura, cibo, tradizioni ma soprattutto la storia e l'arte della città siciliana e prima fra tutti Palermo Il capoluogo isolano è di fatto meta turistica tra le più ambite come dimostra anche l'interesse crescente da parte delle compagnie aeree che investono sempre di più sullo scalo palermitano L'obiettivo è quello di destagionalizzare i flussi turistici per dare la possibilità al turista di vivere pienamente la città in ogni periodo dell'anno Fly to Palermo Winter è un'iniziativa nata dal lavoro sinergico tra il comune di Palermo Federal Bergy e GESAP Ai passeggeri dei voli in arrivo dal 10 gennaio al 21 marzo 2023 all'aeroporto Falcone e Borsellino verrà regalato un pernottamento gratis ogni tre notti inoltre coloro che aderiranno all'iniziativa avranno la possibilità di soffrire anche di un walking tour gratuito su due grazie al coinvolgimento e alle collaborazioni delle guide turistiche autorizzate inoltre sono previste agevolazioni sui servizi di taxi e le auto con noleggio con conducente l'offerta si completa con le proposte gastronomiche scondate di diversi ristoranti e pizzerie che aderiscono alla FIPE e mette risalto anche le piccole botteghe artigiane grazie all'adesione della Cidec torneremo ai 3 milioni e mezzo circa di flussi turistici nella città di Palermo dopo purtroppo essere scesi intorno al milione proprio nel periodo della pandemia lo faremo non soltanto attraverso il turismo che naturalmente arriva in città lo fa perché Palermo è una città bellissima ma anche attraverso la valorizzazione di quei periodi più difficili per città come la nostra ma in generale per il turismo che sono chiaramente quelli invernali e lontani dalle festività proprio per questo con la collaborazione di Federalberghi abbiamo lanciato un'importante iniziativa Fly to Palermo nella sua edizione Winter che partirà il 10 gennaio e si concluderà il 21 marzo proprio per dare rilancio a questo periodo di bassa stagione nel quale sicuramente è più difficile per gli albergatori ma non solo per gli albergatori anche per tutti i componenti della filiera turistica fare turismo e farlo in maniera qualificata in modo tale da rendere produttivo il settore quindi il biglietto per Palermo quindi la carta di imbarco diventa un vero e proprio passepartout per accedere a tutta una serie di agevolazioni ma non solo albergo anche ristorazione grazie all'adesione di Fipe e perché no anche piccole botteghe artigiane per valorizzare il tessuto produttivo locale a partire dalle sue peculiarità grazie alla Cidec ma anche un vero e proprio paniere di servizi accessori grazie a Confcommercio che ha voluto aderire con il suo settore benessere all'SC che ha aderito invece con il mondo dello sport delle palestre e del benessere a più ampio spettro ma hanno aderito anche i tassisti e gli NCC e proprio in questi giorni aderirà anche l'AMAT con alcuni servizi accessori offrendo delle agevolazioni a tutti i turisti che vorranno arrivare a Palermo anche in termini di servizio di trasporto pubblico locale è evidente quindi come il turismo non raccoglie soltanto il mondo dell'alberghiero dell'estero alberghiero ma anche un vero e proprio paniere di servizi aggiuntivi che devono essere valorizzati e maggiormente conosciuti e questo è importante farlo con la collaborazione di GESAP da una parte naturalmente in relazione a questa iniziativa ma anche lo ha ricordato bene del porto di Palermo con il quale sono in atto importanti relazioni proprio per creare rapporti privilegiati affinché Palermo possa essere un hub croceristico in modo tale che il turismo del mondo delle crociere non sia più soltanto un turismo a mordi e fuggi ma sia un turismo che vede le sue ricadute commerciali anche per l'intera città Missione Euridice si aggiudica il premio ambiente all'International Film Festival di Belgrado protagonisti due fratelli Nisseni Missione Euridice si aggiudica il premio ambiente all'International Film Festival di Belgrado la missione nasce dai due fratelli spinali nati e cresciuti a Caltanissetta Marco Videomaker che vive a Milano documentarista con una particolare attenzione rivolta all'ambiente soprattutto alla salvaguardia degli ecosistemi marini e Andrea biologo marino dell'Oceano Grafico di Valencia in Spagna specializzato nella conservazione degli ambienti marini sulla biodiversità del mar Mediterraneo e dell'ecologia di specie marine a rischio la loro storia ha risvegliato l'interesse sia a livello nazionale che internazionale dice Marco questo è solo l'inizio di un lungo percorso con l'obiettivo di sensibilizzare ma soprattutto salvaguardare gli oceani di tutto il mondo il nostro futuro e lo dice attraverso i suoi canali social dopo aver dato la buona notizia del premio ricevuto attraverso Missione Oridice che vede il partenariato del Parco Oceanografico di Valencia che è il più grande d'Europa Cressisub e Ogire sono state rimosse reti per circa una tonnellata dal golfo di Cefalù tutte reti da pesca abbandonate che hanno continuato a pescare e uccidere animali marini soffocando e desertificando la zona un percorso che dura da 5 anni che ha aiutato la fauna coralligena e ittica a rinascere i fratelli Spinelli hanno da tempo anche lanciato una raccolta su GoFoundMe per il recupero delle reti lo smaltimento e soprattutto per sostenere il team di ricerca scientifica che lavora al progetto e con il supporto in superficie la troupe video che ha documentato l'intera missione ogni anno sono 640.000 le tonnellate di reti da pesca che vengono abbandonate negli oceani secondo i rapporti annuali del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente l'UNEP e il dato è in aumento nel Mediterraneo le reti fantasma causano una graduale distruzione di tutte le forme di vita in particolare coragli e pesci secondo i rapporti UNEP e FAO le reti da pesca abbandonate sono pari al 10% dei rifiuti di plastica negli oceani per questo motivo è necessario programmare e avviare interventi di rimozione a Caltanissetta il primo raduno regionale in chorus realtà corali protagoniste appunto in città di ben tre rassegne corali sentiamo qualche istante di silenzio e concentrazione precede l'esibizione a volte si sente il rumore delle pagine sfogliate per individuare il canto giusto e il direttore che dà la nota per l'intonazione ciascun coro ha le sue abitudini un colore un particolare da indossare scelto per distinguersi dagli altri e allo stesso tempo crea un'armonia visiva oltre che sonora tra i suoi componenti un elemento però che li accomuna è l'intreccio delle voci e la passione per la musica la città ha potuto ascoltare diverse realtà corali che nella stessa giornata si sono esibite tra la cattedrale la chiesa di Sant'Agata al collegio e il teatro Regina Margherita tra le rassegne dunque organizzate in occasione del primo raduno regionale in chorus Together as One sabato 7 gennaio Caltanissette infatti è stata scelta come location per lo svolgimento dell'assemblea della federazione l'evento è stato anche preceduto la mattina da workshop gratuiti presso la casa delle culture e del volontariato così come ci ha spiegato il referente della progettazione Viaggio d'Uvo durante la rassegna finale in teatro Abbiamo quest'oggi ospitiamo 16 realtà corali circa 250 coristi questa mattina abbiamo coinvolto i coristi in diversi laboratori dalla musica gospel a laboratori che esprimono la bellezza della musica del movimento quindi laboratori anche di psicomotricità a dei laboratori di psicologia dei gruppi perché il coro alla fine è un gruppo è una realtà di gruppo e quindi con tematiche svariate i coristi hanno potuto approfondire proprio il tema della musica corale poi nel pomeriggio prima abbiamo svolto l'assemblea dei federati in chorus qui al teatro e poi abbiamo organizzato due rassegne contemporanee con cinque cori e cinque cori per rassegna una nella chiesa di Sant'Agata queste rassegne hanno visto variare tantissimo la musica corale dalla musica per bambini passando per la musica barocca la musica cappella del cinquecento fino ad arrivare alla musica moderna passando per il gospel il jazz e la musica leggera ci siamo dati appuntamenti all'anno prossimo perché essendo Caltanissette il centro della Sicilia per noi il raduno regionale non può che essere in questa città che ha un ruolo centrale per la Sicilia la nostra ambizione è quella di riportare al centro la Sicilia e dal centro della Sicilia ripartiamo Morgantina approfondimenti su Ducezio con Calogero Miciche appuntamento venerdì 27 a Palazzo Trigona di Piazza Armerina il parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina dedica un pomeriggio all'approfondimento della figura di Ducezio re dei siculi poeta e condottiero tra i grandi protagonisti della storia della Sicilia del V secolo a.C. l'occasione sarà la presentazione del volume Ducezio Enigma e Utopia di Calogero Miciche venerdì 27 gennaio alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzo Trigona museo della città e del territorio di Piazza Armerina insieme all'autore sarà presente Emilio Galvagno docente di storia greca nell'università di Catania il volume di Miciche è una biografia di Ducezio nella quale vengono approfondite tematiche legate ai siculi e ai loro rapporti con i greci in un periodo documentato solo da fonti greche per lo più di tipo militare non essendovi una letteratura sicula le notizie che riguardano il sovrano provengono da un'unica fonte la biblioteca storica l'opera di storia universale scritta da Diodoro Siculo che ne traccia un ritratto piuttosto enigmatico unico dato certo il prestigio che gli deriva dall'appartenere all'elite emergenti sicule l'opera si sofferma sulle esigenze delle comunità sicule disseminate nella Mesogea la Sicilia centro-meridionale espressione di un'aristocrazia ambiamente permeata dalla cultura greca torna a San Cataldo la rappresentazione luce da luce che parla dell'arrivo dei Maggi per riprendere anche le vecchie tradizioni con un piccolo corteo partito dall'aula borsellino del comune San Cataldese i tre Maggi insieme ad alcuni personaggi come i pastori sono arrivati sino in piazza Papa Giovanni XXIII lì dove era stata allestita la capanna venerdì pomeriggio 6 gennaio infatti dopo la prima edizione dello scorso anno svoltasi tra le restrizioni e dunque soltanto attraverso i social i cittadini di San Cataldo hanno potuto assistere da vicino alla rappresentazione luce da luce l'arrivo dei Maggi con la regia di Davide Burcheri circa 20 le persone tra figuranti e tecnici che hanno preso parte alla narrazione teatrale un evento promosso dall'amministrazione comunale sancataldese e realizzato dall'associazione Diamond Event che così ha anche aperto la stagione teatrale si guarda inoltre al passato ricordando la rappresentazione della notte di Natale negli anni Ottanta quando i figuranti sfilavano dalla chiesa madre per raggiungere la capanna nei pressi del municipio cercheremo di riportare a San Cataldo e ai sancataldesi ciò che veniva messo in scena tempo fa racconta il regista Davide Burcheri testi e tradizioni che ormai purtroppo sono state dimenticate in questo modo vogliamo riprendere e riscrivere alcuni pezzi di storia sancataldese aggiunge bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di mercoledì che vedrà il definitivo allontanamento verso la Grecia della perturbazione transitata sull'Italia un nuovo sistema nuvoloso atlantico raggiunge però a fine giornata le regioni settentrionali e giovedì si muoverà rapidamente verso il centro sud contro la nuvolosità prevista sull'Italia si vede intanto la perturbazione che sta lasciando al nostro paese e questo nuovo sistema nuvoloso anticipato da un po' di velature che si faranno vedere già nella prima parte del giorno sulle regioni settentrionali come precipitazione poco da segnalare arriverà poi qualche fiocco di neve nella seconda parte del giorno sull'arco alpino ma specie sulle cime di confine e a fine giornata qualche goccia di pioggia andrà a interessare in nord-est la Lombardia orientale ma fenomeni isolati quindi in definitiva ci attende un becco di più che discreto non mancheranno infatti ampie giorni di sereno un po' in tutta Italia però appunto a fine giornata si fa vedere qualche nuvole in più al nord vi parlavo di qualche fiocco di neve sulle cime alpine di confine inserata appunto qualche goccia di pioggia tra Lombardia orientale e Triveneto anche tra l'estremo Levante Ligure e la Toscana ma ripeto il complesso un becco di discreto con ancora però un po' di vento al sud si calmerà comunque col passare delle ore per tutti gli dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuito di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno San Pio X Via Napoleone Colaianni Servizio notturno Buonasera Via Edmondo De Amicis